Ma innanzitutto ricordiamo che cos'è l'Orienteering e quando nasce? Orienteering è lo sport dei boschi, nasce in Scandinavia, nei paesi nordici europei, intorno al 1980. Arriva in Italia nel 1984 e lo sport dei boschi viene praticato principalmente, come dice la parola, nel bosco, la sua location naturale, si può fare Orienteering anche in città, si può fare Orienteering anche nei parchi, nelle scuole. È uno sport molto conosciuto a livello studentesco, ci sono molte scuole della provincia di Bergamo che partecipano ai giochi sportivi studenteschi che Agorosso ogni anno organizza. Agorosso è la società di Bergamo che organizza gare di Orienteering e quest'anno si occupa di una gara nazionale e una gara internazionale nel comune di Clusone. Il sabato avremo una gara internazionale di corsa sprint in cui gli atleti percorreranno più o meno 3-4 chilometri con un tempo di percorrenza sui 15 minuti e la domenica avremo una gara in bosco nella selva di Clusone, la pineta di Clusone, dove gli atleti correranno per 7-8 chilometri a una velocità di 4 minuti al chilometro e quindi uno sviluppo di 40 minuti di gara. Per l'organizzazione da due giorni di Orienteering a Clusone vogliamo ringraziare soprattutto il comune di Clusone che ha sempre creduto fin dall'inizio a questa manifestazione, manifestazione che serve a valorizzare la pineta di Clusone e il centro storico di Clusone. Ringraziamo anche tutti gli altri sponsor che ci stanno sostenendo per l'organizzazione di questo evento. Quali sono gli strumenti innanzitutto? Allora, lo strumento principale è la mappa dell'Orienteering. Poi dalla mappa andiamo ad avere la nostra bussola in cui utilizziamo mappa e bussola per gareggiare. Diciamo che l'attività si svolge principalmente in questa forma. La mappa è una mappa dedicata all'Orienteering con delle indicazioni ben precise, con una leggenda e rispetto a una cartina stradale è una mappa muta, nel senso non sono presenti le vie, sono solo presenti gli edifici, le strade, il nostro nord che si allinea con la bussola per poter gareggiare. E per quanto riguarda queste due giorni, ricordiamo per esempio chi si può iscrivere, il percorso dove si snoderà, se in ambiente urbano o meno? Allora, per queste due giorni il sabato sarà una manifestazione totalmente a livello centro storico di Crusone. Per potersi iscrivere per gli atleti bisogna essere tesserati con la federazione Fiso italiana. Noi stiamo anche promuovendo l'Orienteering sul territorio, quindi abbinata alla manifestazione ufficiale uno potrà fare anche una prova ludica, sempre svolta sia per il sabato nel comune di Crusone, quindi sul territorio cittadino, e per la domenica nella nostra selva di Crusone. È un'occasione importante perché, oltre a essere una vetrina per il nostro comune, visto che gli aderenti all'iniziativa e alle due gare che si terranno il sabato e domenica proverranno da diverse località italiane ed estere, e soprattutto è anche quello di cercare di valorizzare un'attività sportiva che porta necessariamente un contatto con la natura. In più, in questo caso, le iniziative appunto sono distribuite su due giorni, il primo giorno di sabato, l'iniziativa all'interno del comune, permette allo stesso modo di fruire delle bellezze artistiche e culturali che abbiamo nella nostra città. La domenica appunto in Pineta, contatto con la natura, uno sport emergente, uno sport sempre più frequentato, anche nelle scuole poi cercheremo di sviluppare, un progetto a potenziamento di quelli già in corso.